Secondo un'indiscrezione, sembra che Millie Carlucci voglia Ballando con le stelle una superstar famosa in tutto il mondo Ecco chi è. Il 28 settembre 2024 dovrebbe iniziare la nuova edizione di Ballando con le stelle che, secondo le anticipazioni, dovrebbe durare più a lungo degli scorsi anni Millie Carlucci sta lavorando senza sosta per la creazione del nuovo cast del famoso e amato programma di ballo e i nomi dei primi concorrenti sono già stati comunicati Infatti il primo ballerino VIP sarà il comico napoletano Francesco Paolantoni, reduce dall'esperienza di un altro programma di Millie, la chiappata lenti, della sua esperienza fissa nello show, Stasera tutto è possibile, e delle sue esilaranti performance a, tale e quale show Non solo ma parteciperanno anche Nikita Perotti e Sofia Berto, che hanno vinto, Ballando con te, lo spin-off di Ballando con le stelle dedicato ai non famosi Ora, sembra che Millie stia corteggiando anche una superstar famosa in tutto il mondo e che la voglia molto all'interno della trasmissione Ecco di chi parliamo. La superstar che potrebbe partecipare a Ballando con le stelle Millie Carlucci ha abituato il pubblico di Ballando con le stelle ad uno spettacolo unico ogni anno, scegliendo un cast adatto sia a più giovani che ai telespettatori più anziani Alla trasmissione di Ballo hanno partecipato infatti star del cinema, della televisione, dello sport, del giornalismo e dello spettacolo Anche per la prossima edizione, che dovrebbe partire il 28 settembre, in anticipo rispetto agli altri anni, sembra che Millie Carlucci voglia fare un colpaccio Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la conduttrice starebbe corteggiando una superstar famosa in tutto il mondo Si tratta infatti di una campionessa sportiva italiana che, grazie ai suoi successi, è conosciuta in tutto il mondo, Federica Pellegrini L'ex nuotatrice, da pochi mesi diventata mamma della piccola Matilde, ha già partecipato al programma della Carlucci come ballerina per una notte E negli ultimi anni è stata spesso in tv sia come concorrente di Pechino Express con il marito Matteo Giunta, sia come giudice di Italia's Got Talent Potrebbe essere proprio la superstar del nuoto, famosa in tutto il mondo, una delle nuove concorrenti di Ballando con le stelle Ma bisognerà attendere conferme o smentite su questa indiscrezione degli ultimi giorni